Piper. Piper aveva una new entry nella sua top ten personale intitolata Le volte in cui mi sono sentita inutile. Combattere contro Gamberzilla con un pugnale e una bella voce? Decisamente poco efficace. Il mostro era sprofondato negli abissi portandosi dietro tre dei suoi amici, e lei non era stata in grado di aiutarli. Annabeth, Edge e il tavolino Buford si erano precipitati a fare riparazioni per evitare che la nave affondasse. Percy, sebbene fosse esausto, perlustrava l'oceano alla ricerca degli amici scomparsi. Jason, esausto pure lui, volava sul sartiame come un biondo Peter Pan, spegnendo i fuochi della seconda esplosione verde, che aveva illuminato il cielo proprio sopra l'albero maestro. Quanto a lei, l'unica cosa che poteva fare era fissare Catoptris, tentando di localizzare Leo, Hazel e Frank. Le uniche immagini che le arrivavano però erano quelle che non avrebbe voluto vedere. Tre SUV neri partiti da Charleston e diretti verso nord, pieni zeppi di semidei romani, con reina seduta al volante sull'auto capofila. Aquile giganti li scortavano dall'alto. Di quando in quando, scintillanti spiriti violace e i subighi spettrali sbucavano dalla campagna e si univano alla fila, rombando sulla I-95 in direzione di New York e del campo mezzosangue. Piper si concentrò di più, vide le immagini da incubo che aveva già visto, un toro con la testa umana che sorgeva dalle acque e una stanza simile a un pozzo buio che si riempiva di acqua nera, mentre Jason, Percy e lei lottavano per rimanere a galla. Rinfoderò Catoptris, domandandosi come avesse fatto Elena a rimanere sana di mente durante la guerra di Troia, se quel pugnale era stata la sua unica fonte di notizie. Poi si ricordò che tutte le persone intorno a Elena erano state uccise dall'esercito invasore greco. Forse non era rimasta sana di mente. Quando sorse il sole, nessuno di loro aveva chiuso occhio. Percy aveva setacciato il fondo marino senza trovare niente. Largodue non correva più il rischio di affondare, ma senza Leo non riuscivano a eseguire tutte le riparazioni. La nave poteva riprendere a navigare e tuttavia nessuno di loro propose di abbandonare la zona, non senza gli amici scomparsi. Piper e Annabeth mandarono un messaggio iride al campo mezzosangue per avvisare Chirone di quanto era accaduto con i Romagna a Fort Samter. Annabeth parlò della schermaglia avuta con Reina. Piper raccontò della visione dei SUV diretti a nord. La faccia benevola del centauro parve invecchiare di trent'anni durante la conversazione, ma Chirone rassicurò le ragazze che avrebbe provveduto a difendere il campo. Tyson, la signora O'Leary ed Ella erano arrivati sani e salvi. Se necessario, Tyson avrebbe potuto convocare un esercito di ciclopi a difesa del campo, mentre Ella e Rachel Dare stavano già confrontando le profezie per tentare di capire meglio cosa aveva in serbo il futuro. Il compito dei sette semidei a bordo del Largo 2, ricordò Chirone alle ragazze, era di portare a termine l'impresa eroica e tornare sani e salvi al campo. Dopo il messaggio iride, i semidei cominciarono a camminare su e giù per il ponte in silenzio, fissando l'acqua nella speranza di un miracolo. Quando finalmente il miracolo arrivò, tre sfere rosa giganti comparvero all'improvviso a dritto di prua, scagliando Frank, Hazel e Leo fuori dall'acqua. Piper diede un po' di matto, gridò di sollievo e si tuffò in mare. Non prese né corde né salvagente. Era così felice che nuotò verso Leo e lo baciò su una guancia, lasciandolo di stucco. «Ti sono mancato?» chiese il figlio di Efesto ridendo. «Piper all'improvviso si infuriò. Dove siete stati? Come fate a essere vivi?» «È una lunga storia», disse Leo, mentre un cestino da picnic affiorava in superficie lì accanto. «Vuoi un brownie?» Dopo che i ragazzi furono saliti a bordo e si furono messi dei vestiti asciutti, il povero Frank dovette prendere in prestito un paio di pantaloni di Jason, di una taglia troppo piccola per lui, tutto l'equipaggio si radunò sul cassero per festeggiare con una bella colazione. Tutti tranne Edge. L'atmosfera stava diventando troppo melenza per i suoi gusti ed era sceso di sotto a sistemare con il martello alcune ammaccature sullo scafo. Mentre Leo si dava da fare con i comandi al timone, Hazel e Frank raccontarono la storia dei pesci centauro e del loro campo di addestramento. «Incredibile!» commentò Jason. «Questi brownies sono ottimi!» «È l'unica cosa che sai dire?» domandò Piper. Il figlio di Giove sembrò sorpreso. «Che c'è? La storia l'ho ascoltata! Pesci centauro, tritoni e sirene, lettera di presentazione al dio del Tevere. Ho capito!» «Ma questi brownies!» «Assoggeli con la marmellata di Esther!» suggerì Frank, a bocca piena. «Siete davvero disgustosi!» commentò Hazel. «Passami il vasetto, amico!» continuò Jason, impassibile. Hazel e Piper si scambiarono un'occhiata esasperata. «I maschi!» Persi, da parte sua, voleva sapere tutto sul campo sottomarino. Continuava a tornare su un punto. «Non volevano conoscermi?» «Non si tratta di questo», replicò Hazel. «È solo che...» «Politiche sottomarine, immagino. Sirene e tritoni difendono il loro territorio. La buona notizia è che si occuperanno dell'acquario di Atlanta e ci aiuteranno a proteggere Largo 2 mentre attraversiamo l'Atlantico.» Persi annui distrattamente. «Ma non volevano conoscermi?» Annabeth gli diede una botta su un braccio. «E dai, testa d'alghe, abbiamo altre cose di cui preoccuparci.» «Ha ragione Annabeth», disse Hazel. «A mio fratello rimangono meno di due giorni, a partire da oggi. I pesci centauro hanno detto che dobbiamo salvarlo.» «Pare che in qualche modo Nico sia essenziale per l'impresa.» Si guardò intorno sulla difensiva, come se si aspettasse di essere contraddetta. Nessuno lo fece. Piper tentò di immaginare cosa provasse Nico di Angelo, chiuso in una giara con solo due semi di melagrana per sostentarsi e senza sapere assolutamente se lo avrebbero salvato o meno. Lei non vedeva l'ora di raggiungere Roma, anche se aveva la tremenda sensazione di navigare verso la propria prigione personale. Una stanza buia, piena di acqua. «Nico avrà di certo informazioni sulle porte della morte», disse. «Lo salveremo, Hazel. Faremo in tempo.» «Giusto, Leo?» «Cosa?» Leo distolse lo sguardo dai comandi. «Oh, sì! Dovremmo raggiungere il Mediterraneo domani mattina. Poi trascorreremo il resto della giornata veleggiando verso Roma o volando, se nel frattempo riesco a riparare lo stabilizzatore.» All'improvviso Jason fece una faccia strana, come se i suoi brownies alla marmellata di pesca non fossero più tanto buoni. «E così arriveremo a Roma l'ultimo giorno possibile per salvare Nico.» «Ventiquattro ore per trovarlo, al massimo.» Persi incrociò le gambe. «E questa è solo una parte del problema. C'è anche il marchio di Atena.» Annabeth non sembrò contenta che avessero cambiato discorso. Appoggiò la mano sullo zaino, che da quando avevano lasciato Charleston si portava sempre dietro. Lo aprì ed estrasse un sottile disco di bronzo grande quanto una ciambella. «E' la mappa che ho trovato a Fort Samter.» «E...» Si fermò di colpo, fissando nella superficie levigata. «Non si vede più niente.» Persi prese il disco e lo esaminò su entrambi i lati. «Prima non era così?» «No! Lo guardavo nella mia cabina e...» Annabeth scosse il capo. «Deve essere come il marchio di Atena. Posso vederlo solo quando sono sola. Non vuole mostrarsi agli altri semidei.» Frank si ritrasse, come se il disco potesse esplodere. Aveva un baffo di succo d'aranza e una barba di briciole di brownies, e a Piper venne voglia di passargli un tovagliolo. «Cosa c'era sopra?» chiese il figlio di Marte, preoccupato. «E cos'è il marchio di Atena? Ancora non l'ho capito.» Annabeth riprese il disco da Persi. Lo rigirò sotto la luce del sole. La mappa era difficile da interpretare, ma indicava un punto sul fiume Tevere. «Credo che sia dove comincia la mia personale missione. Il cammino che devo intraprendere per seguire il marchio di Atena.» «Forse è dove incontrerai Tiberino, il dio del fiume», intervenne Piper. «Ma cos'è questo marchio?» «La moneta», bofonchiò Annabeth. Persi aggrottò la fronte. «Quale moneta?» Annabeth infilò una mano in tasca e tirò fuori una dracma d'argento. «Celò da quando ho incontrato mia madre alla Grand Central Terminal. È una moneta ateniese.» Mentre gli altri semidei osservavano la dracma, a Piper tornò in mente un ricordo assurdo. Un esercizio delle elementari in cui i bambini dovevano mostrare e descrivere un oggetto ai propri compagni. «Una civetta», notò Leo. «E immagino che il ramo sia di olivo, giusto? Ma cos'è questa iscrizione? A, simbolo strano e?» «Sono alfa, teta ed epsilon», spiegò Annabeth. «In greco sta per degli ateniesi. Oppure si potrebbe leggere anche come i figli di Atena. È una specie di motto ateniese.» «Come SPQR per i romani», commentò Piper. «Annabeth annui. In ogni caso, il marchio di Atena è una civetta, proprio come quella. È rossofuoco. L'ho visto nei miei sogni. E poi due volte a Fort Samter. Raccontò cos'era accaduto al forte. La voce di Gea, i ragni nella guarnigione, il marchio che l'inceneriva.» «Piper intui che per lei non era facile parlarne.» Persi prese la mano di Annabeth. «Avrei dovuto essere con te. Ma è proprio questo il punto», precisò la figlia di Atena. «Nessuno può essere con me. Quando arriverò a Roma, dovrò partire da sola. Altrimenti il marchio non comparirà. Dovrò seguirlo fino… fino alle sue origini.» Frank prese la moneta dalle mani di Leo. Fissò la civetta. «La rovina dei giganti si erge pallida e dorata e sarà vinta col dolore in una prigione intricata», disse, sollevando gli occhi verso Annabeth. «A che cosa si riferisce?» Prima che Annabeth riuscisse a rispondere, Jason prese la parola. «Ha una statua», rispose. «Una statua di Atena. Almeno questa è la mia ipotesi.» «Piper si accigliò. Hai detto che non lo sapevi?» «Sì, ma più ci penso e più me ne convinco. C'è solo un reperto che concorda con la leggenda.» Il figlio di Giove si girò verso Annabeth. «Mi dispiace. Avrei dovuto dirti tutto quello che sapevo molto prima. Ma sinceramente avevo paura. Se questa leggenda è vera…» «L'ho capito, Jason. Non ti biasimo», disse Annabeth. «Ma se riusciamo a salvare la statua, greci e romani insieme? Non capisci? Potrebbe sanare il dissidio?» «Aspetta un attimo.» Persi fece il gesto del time out. «Quale statua?» Annabeth riprese la moneta d'argento e se la infilò in tasca. «L'Atena Partenos», rispose. «La più famosa statua greca di tutti i tempi. Era alta a dodici metri e ricoperta di avorio e oro. Stava al centro del Partenone.» Sulla nave calò il silenzio, tranne per le onde che sciabordavano contro lo scafo. «Cosa le è successo?» chiese infine Leo. «È scomparsa», rispose Annabeth. Il figlio di Efesto aggrottò la fronte. «Come fa una statua di dodici metri che sta al centro del Partenone a sparire così nel nulla?» «È una bella domanda», commentò Annabeth. «È uno ritengono che la statua sia stata fusa per recuperare l'oro, oppure che sia stata distrutta dagli invasori. Atene è stata saccheggiata tante volte. Alcuni ritengono che la statua sia stata portata via… dai Romani», concluse Jason. «O perlomeno è un'ipotesi e concorda con la leggenda che ho sentito al Campo Giove. Per fiaccare il morale dei greci, i Romani portarono via l'Atena Parthenos, quando conquistarono Atene. La nascosero a Roma, in un tempio sotterraneo. I semidei Romani giurarono che non avrebbe più rivisto la luce del sole. Hanno letteralmente rubato Atena perché non fosse più il simbolo della potenza militare greca. E a Roma Atena è diventata Minerva, una dea molto più mite. «E da allora i figli di Atena tentano di ritrovare la statua», disse Annabeth. «Molti non conoscono la leggenda, ma a ogni generazione la dea sceglie alcuni eroi e consegna loro una moneta come la mia. I semidei seguono il marchio di Atena, una specie di scia magica che li collega alla statua, nella speranza di trovare il luogo in cui riposa l'Atena Parthenos e di riportarla indietro». Piper guardò Annabeth e Jason con quieto stupore. Parlavano come se fossero una squadra, senza nessuna ostilità né accusa reciproca. Quei due non si erano mai fidati l'uno dell'altra. Lei li conosceva abbastanza bene, per esserne certa. Ma se riuscivano a discutere con tanta calma di un problema enorme come quello, l'origine suprema dell'odio tra Greci e Romani, forse c'era speranza per i due campi. Persi sembrava avere gli stessi pensieri, a giudicare dall'espressione sul suo viso. «Se ritrovi la statua, cosa ce ne faremo? Saremo almeno in grado di spostarla? Non lo so», ammise Annabeth, «ma se riuscissimo a salvarla in qualche modo, potrebbe unire i due campi. Potrebbe curare mia madre dall'odio che l'attanaglia, riunendo i due aspetti della sua personalità. E forse la statua è dotata di una specie di potere che potrebbe aiutarci contro i giganti». Piper fissò Annabeth con sgomento, perché cominciava a comprendere l'enorme responsabilità che la sua amica si era assunta. Una responsabilità che aveva intenzione di portare tutta da sola. «Questo potrebbe cambiare tutto», commentò. «Potrebbe porre fine a migliaia d'anni di ostilità. Potrebbe essere la chiave per sconfiggere Gea». «Ma se non possiamo aiutarti…» Non concluse la frase, però la domanda rimase sospesa nell'aria. «È davvero possibile salvare la statua?» Annabeth raddrizzò le spalle. «Devo riuscirci. È un grosso rischio, ma ne vale la pena». Piper sapeva che doveva essere terrorizzata, pur facendo del proprio meglio per nasconderlo. Hazel si arricciò una ciocca con aria pensierosa. «Non mi piace l'idea che rischi la vita da sola, ma hai ragione. Abbiamo visto cosa ha significato per la legione romana recuperare l'aquila d'oro. Se questa statua è il più potente simbolo di Atena che sia mai stato creato, potrebbe prendere a calci qualche gran sedere», concluse Leo. E Hazel si accigliò. «Beh, non l'avrei messa così, però è vero». Solo che Percy prese di nuovo la mano di Annabeth. Nessun figlio di Atena l'ha mai ritrovata. «Annabeth, cosa c'è laggiù? Chi la custodisce? Se ha qualcosa a vedere con i ragni...» «E sarà vinta col dolore in una prigione intricata», ricordò Frank. «Intricata come una tela di ragno». Piper sospettò che sapesse cosa l'attendeva, o che almeno ne avesse un'idea piuttosto chiara e si stesse sforzando di non farsi sopraffare dal panico. «Ce ne occuperemo una volta arrivati a Roma», suggerì, ricorrendo a un pizzico di lingua magliatrice per placare il nervosismo dell'amica. «Funzionerà, e anche Annabeth prenderà a calci qualche gran sedere. Vedrete». «Sì», concordò Percy. «È una lezione che ho imparato tanto tempo fa. Mai scommettere contro Annabeth». La figlia di Atena li guardò con gratitudine. A giudicare dagli avanzi della colazione, gli altri erano ancora turbati, ma Leo riuscì a scuoterli. Premette un pulsante e una potente raffica di vapore esplosi dalla bocca di Festus, facendo trassalire tutti quanti. «Bene», disse. «Ottima riunione preparatoria, ma c'è ancora una tonnellata di roba da riparare sulla nave prima di raggiungere il Mediterraneo. Siete pregati di presentarvi al comandante supremo Leo per avere la vostra divertentissima lista di faccende da sbrigare!». Piper e Jason ricevettero l'incarico di ripulire il ponte inferiore, che era stato messo a suo quadro durante l'attacco del mostro. Per riorganizzare l'infermeria e rafforzare la zona del magazzino impiegarono quasi tutta la giornata, ma Piper non importava. Primo perché così trascorreva il tempo insieme a Jason, e poi perché le esplosioni della sera prima le avevano infuso un sano rispetto per il fuoco greco. Non voleva che nessuna boccetta piena di quella roba rotolasse per i corridoi nel cuore della notte. Mentre risistemavano la scuderia, Piper pensò alla notte che Annabeth e Persi avevano trascorso laggiù. Anche lei avrebbe voluto parlare con Jason tutta la sera, rannicchiata lì sul pavimento a godersi la sua compagnia. Perché loro due non infrangevano mai le regole? Semplice. Jason non era così. Era programmato per essere un leader e dare il buon esempio. Infrangere le regole non gli veniva spontaneo. Senza dubbio, Reina lo ammirava per quello. E anche Piper. La maggior parte delle volte. L'unica volta in cui lo aveva convinto a fare il ribelle era stata alla scuola della natura, quando una sera erano sgattaiolati sul tetto per guardare una pioggia di meteoriti. Era stato lì che si erano dati il primo bacio. Peccato che quel ricordo fosse un inganno della foschia, una mugia magica che Hera le aveva messo in testa. Piper e Jason stavano insieme in quel momento nella vita reale, ma la loro relazione si era fondata su un'illusione. Se Piper avesse tentato di convincere il vero Jason a sgattaiolare fuori nel cuore della notte, lui l'avrebbe fatto? La figlia di Afrodite radunò il fieno. Jason riparò la porta di uno stallo. Dal portellone di vetro sul pavimento scintillava l'oceano, una distesa verde di luci e ombre che sembrava inabissarsi all'infinito. Piper continuava a sbirciare giù, con la paura di vedere sbucare la faccia di un mostro o i cannibali d'acqua delle vecchie storie di suo nonno, ma scorse solo qualche banco di aringhe. Mentre guardava Jason lavorare, ammirò la semplicità con cui faceva qualsiasi cosa, che si trattasse di riparare una porta o di ingrassare le selle. Non era solo per le braccia forti e la praticità delle sue mani, anche se Piper apprezzava pure quelle, ma per la sicurezza e la scioltezza con cui Jason si muoveva. Faceva quanto c'era da fare senza lamentarsi. Continuava a scherzare, anche se probabilmente era stanco morto, visto che non aveva chiuso occhio la notte prima. Piper non poteva avercela con Reina perché si era presa una cotta per lui. Quando si trattava di lavoro e dovere, Jason era romano fin nel midollo. Ripensò Alte a Charleston e si chiese cosa avesse detto sua madre a Reina un anno prima. Perché quella conversazione aveva trasformato il modo in cui Reina trattava Jason? Afrodite aveva incoraggiato o scoraggiato i suoi sentimenti? Piper non lo sapeva, ma avrebbe voluto che sua madre non fosse apparsa a Charleston. Le madri normali sono già abbastanza imbarazzanti. Una mamma divina super chic che invita le compagni della figlia per un tè e quattro chiacchiere sui ragazzi... beh, era mortificante. Afrodite aveva prestato così tanta attenzione ad Annabeth e Hazel che Piper si era sentita a disagio. Quando sua madre si interessava alla vita amorosa di qualcuno, di solito era un brutto segno. Significava guai in arrivo. O, come avrebbe detto la dea, svolti e mutamenti. E poi Piper era ferita dal fatto di non avere avuto la madre tutta per sé. Afrodite l'aveva degnata a malapena di uno sguardo. Non aveva detto una parola su Jason. Non si era minimamente preoccupata di raccontarle della conversazione che aveva avuto con Reina. Era quasi come se Afrodite non provasse più interesse per sua figlia. Piper aveva trovato il ragazzo e ora toccava a lei far funzionare le cose. La dea era passata a nuovi pettegolezzi, con la stessa facilità con cui avrebbe gettato via una vecchia rivista di gossip. Oh, tutte voi siete delle storie così belle, aveva detto Afrodite, cioè delle ragazze così belle. Piper non aveva apprezzato quel commento, ma una parte di lei aveva pensato, non voglio essere una storia, voglio una vita tranquilla e serena con un ragazzo tranquillo e sereno. Se solo avesse saputo come far funzionare un rapporto, avrebbe dovuto essere un'esperta, essendo la capogruppo della casa di Afrodite. Gli altri ragazzi del campo mezzosangue andavano di continuo da lei a chiederle consigli. Piper aveva sempre cercato di fare del proprio meglio, ma con Jason era una frana. Metteva sempre in dubbio le proprie azioni, si preoccupava troppo delle espressioni di Jason, dei suoi stati d'animo, dei suoi commenti estemporanei. Perché doveva essere tutto così difficile? Perché non poteva provare sempre la sensazione di vivere una bella storia d'amore a lieto fine? A che pensi? Le domandò Jason. Piper si rese conto di avere un'aria amareggiata. Nel riflesso del vetro vide che sembrava avere appena ingoiato un cucchiaino di sale. A niente, rispose. Cioè, a un sacco di cose. Tutte insieme, più o meno. Jason sorrise. La cicatrice sul suo labbro quasi scompariva quando lo faceva. Con tutto quello che aveva passato era incredibile che fosse così di buon umore. «Andrà tutto bene», la rassicurò. «L'hai detto anche tu?» «Sì», concordò Piper. Peccato che lo dicessi solo per tenere su di morale a Annabeth. Jason scrollò alle spalle. «Però è vero. Siamo quasi arrivati nelle antiche terre. Ci siamo lasciati i romani alle spalle. E adesso loro stanno andando verso il campo mezzosangue per attaccare i nostri amici». Jason esitò, come se gli risultasse difficile trovare un aspetto positivo da sottolineare. «Chirone escogiterà un sistema per tenerli a bada. I romani potrebbero metterci settimane a individuare il campo e a programmare l'attacco. E Reina farà tutto il possibile per rallentare le cose. È ancora dalla nostra parte. Lo so. Ti fidi di lei». La voce di Piper suonocupa alle sue stesse orecchie. «Te l'ho detto, non hai nessun motivo per essere gelosa. Reina è bella. È potente. È così... romana». Jason mise giù il mantello e le prese una mano. Quel semplice gesto le provocò un brivido lungo il braccio. Una volta, suo padre l'aveva portata in un famoso acquario e le aveva mostrato un'anguilla elettrica. Le aveva spiegato che l'anguilla inviava impulsi che scioccavano e paralizzavano la preda. Ogni volta che Jason la guardava o le toccava una mano, Piper si sentiva così. «Tu sei bella e potente», le disse il figlio di Giove. «E non voglio che tu sia romana. Voglio che tu sia Piper. Siamo una squadra, tu e io». Piper avrebbe voluto credergli. In effetti stavano insieme da diversi mesi ormai. Eppure lei non riusciva a sbarazzarsi dei dubbi, non più di quanto Jason riuscisse a sbarazzarsi della scritta SPQR tatuata sul braccio. «Sopra di loro sono la campana che annunciava la cena». Jason fece una buffa smorfia. «Sarà meglio salire. Non vogliamo che Edge ci leghi le campane al collo, giusto?» Piper rabrividì. Il satiro aveva minacciato di farlo dopo lo scandalo di Percy e Annabeth, per scoprire se qualcuno dei semidei sgattaiolava fuori dalla cabina nel cuore della notte. «Va bene», disse la figlia di Afrodite con rimpianto, guardando il portellone di vetro sotto i loro piedi. «Mi sa che abbiamo bisogno di una buona cena e di una bella notte di sonno».